bello alto ciao grazie di essere qui 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 come oggi come oggi allora piccola premessa sentirete due rumori di sottofondo a me che si sta pulendo sapete quando i cani si puliscono dal bagnato che hanno addosso quello inoltre c'è il camino che fa alcuni scoppietti per questo e anche per aumentare un volare natalizia metterò il suono del fuoco in sottofondo in modo tale da cercare di non so mettere tutti questi suoni in sottofondo insieme rendere piacevole il tutto oggi è mercoledì 8 dicembre e dovevo approfittare di questo silenzio di questo giorno in cui la gente non urla prima però ancora di cominciare il video voglio ringraziare Coro per aver sponsorizzato questa piccola piccola parte di video Coro è un e-commerce di cibo di cibo squisitezze ma vende anche accessori per la cucina nel loro shop potete trovare tantissima frutta secca semi creme di frutta secca quello che voglio far vedere oggi vorrei che voi percepiste l'odore questa crema di pistacchi no non capite è crema 100% pistacchi e nulla ve la voglio consigliare perché è veramente spaziale buonissima buonissima ha un nostro il nostro modo preferito di mangiare la crema di pistacchi e indingerci provatelo indingerci d'altri dentro e mangiarli quando qualcuno a casa voglio fare uno snack faccio quello in due minuti e ma sembra un successore bene grazie ancora per aver sponsorizzato questa parte di video e cominciamo subito a truccare me e a truccare te cominciamo 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 Questa è la Silky Powder Foundation di Make Up The Light, fatta in collaborazione con Cosmuy Fine, è un odore buonissimo e non pensavo che un prodotto del genere potesse piacermi, in realtà è probabilmente un prodotto che mi piace tantissimo a me. Perché sulla pelle non lo sento, ora ovvio non ha una coprenza, una coprenza lieve, ma io è ciò che cerco. Spero non si sia troppo oscura perché mi sono un po' brazzata in giardinio, ma penso di stare già schierendomi, l'inverno mi schierisce più in fretta. Tra l'altro prima ho nevicato tipo per 10 minuti e poi basta, forse ho un po' troppo aranciato da sola. Illudendomi per 10 minuti che venisse a nevicare e in realtà la mamma si trucca, la mamma si trucca. Cosa fa la mamma? Cosa fa la mamma? Ok, un po' da. Comunque ti stavo dicendo appunto che questo è il primo video natalizio dell'anno, ma da oggi fino al 23, che poi è il giovedì prima del 25, o lunedì prima del 25, direi lunedì. No, giovedì, ci saranno tutti i video di matalizio. Vi dico solo di tenervi pronti, 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 pronti per il video di lunedì, per il prossimo video perché ci tengo tantissimo, ma proprio tanto, tanto, tanto. E vi dico solo questo, se vi è piaciuto Dream's Airlines, probabilmente vi piacerà anche questo, ecco, vediamo così, basta, 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 non è più niente. Ok, ancora un po'. Per onestà, vi dico che con cos'è mai fai, io... Ho l'affiliazione, quindi se comprate dal loro sito, tramite il mio link che vi metto qui sotto, io prendo una piccola percentuale, che non si è già diciamo, ha già capito che voi semplicemente, cos'è mai fai, mi ringrazio dell'acquisto, fandomi una piccola percentuale. Tipo Amazon, ho anche quello, ho anche l'acquisto, comunque, vabbè, non devo dire questo. Allora, oggi farò un look natalissimo, appa, semplice, e ho preso queste due palette di cuvi che mi piacciono tantissimo. Eh, sono accadute, non ci fate caso, però spero le vediate. Ok, questa, bellissima, c'ha questi anche colori super glitterati, meravigliosi, ve lo assicuro sugli occhi, e ci si può anche giocare un pochino. E poi, ho questa qui, invece, un po' più freddina, ho paura di far crollare tutto, penso, userò l'altra. Ci ho. Poi, che albero avete l'albero di Natale? Il mio è palesemente ross Joker. E quest'anno abbiamo deciso di non metterci pestoni, ho deciso, non so perché, li trovavo di troppo. E penso che comunque metteremo magari dei vestoni qui sulla libreria o nella mensura rotonda che abbiamo lì Avete visto il mio austro? Non lo so Se l'avete visto capirete E io non ho uno specchio, parte questo che è tutto appannato, comunque ci proviamo Ho stato mischiato questo marroncino e questo panna, prendiamo ancora un po' del panna perché non voglio nulla di troppo intenso Tecnicamente per la mia palette non dovrei truccarmi con questi colori ma a me piacciono tantissimo quindi mi tocco E poi da alcuni natalizi sono caldi per me Non mi ha aggiunto niente questo specchietto Ok E sì, quindi Da qui a Natale ci saranno Solo video a tema natalizio Non tutti complicati, c'è alcuni un po' più elaborati, altri meno Tornerà un personaggio natalizio che ho già interpretato Provate a indovinare quelli dei commenti, molto facile E Sono molto soddisfatta Delle Delle idee che ho avuto quest'anno Per Per lo speciale Natale Soprattutto Sarò molto soddisfatta Quando vedrò chi Sarà l'utilizzo da fare tutto Perché Però la sto registrando solo questo Quindi Ok Allora cominciamo con te intanto E mettiamo A questo punto Prima Questo ombretto sotto Per se a volte guardo Dove sto guardando ora Ma È dove mi vedo Perché Sto registrando con l'iPhone Amica Questo sotto E stai mettendo anche quello sopra E vado a farti le sfumature A te stanno decisamente meglio questi colori Ti piacciono molto e poco L'odore Di inverno L'odore Tra l'altro non so se No non si vede Perché No non si vede Però a volte si vede il rilasso del cammino Lì Eccoci qua Adesso la parte un po' più interessante Voglio farmi praticamente Un Eyeliner glitterato Non so se parlo ad esempio con questo Un po' più scuro Ma si dai Prendo Prendo questo colore qui Questi sono molto cremosi Quindi si prestano bene a queste cose E vado a creare La mia eyeliner Ma che bello Lo faccio vedere meglio Allora è meravigliosa Lo si notte Spero di si Adesso tu provo vi faccio anche te avete mai provato tipo a fare queste cose, gli eyeliner con gli ombretti glitterati con gli ombretti glitterati queste cose qui li faccio spesso perchè li trovo super particolari ok adesso un po' di più unica cosa metto un po' di piano qui perchè non mi sento niente ok non so se rafforzare con tipo questo chiaro questo per rafforzare è bellissimo proviamo con questo carino la gamba bello bello sono proprio già si scavano questi ombretti sono comodissimi ma mai potete così di questa consistenza proprio vedete bello mi sembra quasi ombretti in crema infatti in realtà non ho presentato un particolare problema il fatto che mi cerca tutta la palette perchè tanto sono comunque ombretti molto cremosi vado anche col punto luce ok ok così di te adesso vado così di te stavo sbagliando ombretto ok ti tengo l'occhio stai veramente bene? stai veramente molto molto bene? stai veramente molto molto bene? andiamo anche sull'altro eccoci qua eccoci qua eccoci qua ok adesso mettiamo anche un altro chiaro e andiamo eccoci qua eccoci qua eccoci qua eccoci qua meraviglioso adesso 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 visto che la la matita è cioè l'eyeliner è chiaro e non definisce bene l'occhio vado con una matita marrone nella rima interna per definire un pochino l'occhio ok ok vado anche sotto ok 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 avete messo da questa tecnica secondo me la più comoda? tu vuoi fare questa cosa? tu vuoi fare questa cosa? ok ecco ecco ok ok io adoro la matita marrone il maschera marrone bellissimo vado un attimino a sfumare qui sotto la matita in modo che non sia netta ok ok faccio anche sotto anzi prima metto prima metto il mascara e dopo faccio tutto anche a te il mascara ah non ti ho detto questa matita marrone di mesauda la 104 cocoa il mascara ce l'ho anche marrone ma non ce l'ho nero per definire un po' di più e uso questo di We Make Up per Camille che si chiama Ferry e che mi sta piacendo molto 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 una volta che si è seccato prima era molto non lo so difficile da gestire adesso che si è seccato dopo ok ok guarda la differenza ora che si è seccato di finish anche molto molto meglio le ciglia invece prima si aggomavano tutte e soprattutto a me di questo mascara si è piaciuto invece che curva molto mi faccio partecipare a un pensiero che ho fatto ora mi sono appena sporcato un po' qui la palpebra mobile e mi è venuto in mente tipo se non ti sporchi la palpebra mobile ti trucchi sulla metà tipo se non ti recchi il dito di solo metà della fonsis eccoci cosa dite? cosa dite? cosa dite? cosa dite? vado con l'altro su senti rigole così comunque io stasera che poi è mercoledì sera quindi ieri sera per voi quindi ieri sera per voi ho la live su Twitch che faccio ogni mercoledì e domenica il lavandino ci tiene un ghiaccio che c'è lo che lui c'è nervito ok ma l'antica per te va devi chiudere gli occhi io te la passo in mezzo no 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 non ti faccio male dovrebbe anche lacrimare molto 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 ecco qua sto visionando il bravo qui 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 un po' sotto un penissimo un penissimo un penissimo un penissimo un penissimo per il top di questo video è infinito No, ma qui la parte di complesso è un progliore No, prima Ciccac, 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 up, up, up ... tic toc tic toc tic toc tic toc up tic toc tic toc tic toc up passiamo in terra e blush allora come terra io uso questa di Alessandro Ratti che è la 0404 fin dalla Valation che è questa terra secondo me perfetta per il mio incarnato quale che il bag è bellissimo sono piaciutissimi e poi vedete è una terra abbastanza fredda tendendo un pochino diciamo più leggermente e qui non lo specchio ok sto guardando nello specchio mi guardavo dal cellulare è andato un po' basso vabbè e pennello di essence ma sapete che mi piace un sacco questo trucco incredibile ok 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 da questa parte qualunque bronzeri mi metta a terra crema liquida crema polvere e tutto quanto ve lo giuro tutte mi fa tipo un po' di macchia ma secondo me proprio la mia pelle che ha tipo è leggermente più scura da questa parte è leggermente più scura da questa parte quindi proprio sembra che abbia una macchia perché io dico una terra, due terra, tre terra ma sempre quando muore il difetto è mio di fabbrica anche a te ho un po' di braci che sempre ha apprezzato no? io mi doi un po' di bel Adesso Come blush invece Come blush invece È un modello a puro bio Che è proprio super in palette con me Che è il numero 05 E c'è proprio proprio tanto Ottivamente il blush Che utilizzo di più Perché è tipo un Malva spento dirai Sprecatissima questa palette Per due ombretti E un blush Va così Adesso mi sto guardando un attimo Ok Cosa ne dite Che dall'altra parte Comunque si vede un sacco di differenza Proprio come Il mio viso sia tirato in su Dove c'è il blush e dove non c'è Osservate un attimo Questa parte È molto più tirata su Secondo me Questa è la mia impressione La mia impressione Da Perdo un sacco di tempo A truccarmi Almeno che serva qualcosa Eh si 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 Un po' sul naso cambia Sempre È proprio rimasto Lì Però mi piace un sacco Adesso vado con te Ok Bello alto Ecco Ok Ok Quanto è bello il brushing Con l'iPhone Adoro E anche I tuoi zingumi Sono belli alzati Pini 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 Incredibile Comunque come Il posizionamento Di un prodotto Dello stesso prodotto Sul nostro viso Anche proprio Con lo stesso pennello Solo Un centimetro Mettocentimetro E differenza Posso cambiare così tanto Posso andare La nostra forma Del viso Ok Oh Facciamo un sacco di tempo Cos'altro Che cara Potrei farlo Stasera in live Nonostante Sì È Abbiamo controlato Che registrasse Mettate Se non Se non Se non Quei Sì 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 ok mancano all'appello illuminante c'è il persopraccigli rossetto allora come illuminante io uso il mio prevedo sempre che è di Basic Marble Restored di Basic Aya di My Basic Aya e dell'Adenopartanus e la metto proprio altissimo guardate qui e anche con questo secondo me anzi noto tanto la differenza alza tanto o forse semplicemente questo ziggono è un po' più alto di suo magari non me ne accorgo però così sono potentissimi queste illuminazioni qua un po' sceglato e di solito il posto anche un po' qui giusto? giusto mi devo mettere a te ho sentito una musichetta un po' spero di no ovviamente secondo voi questo non mi è caduto certo come può non cadermi brutto che mi piace tantissimo giusto 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 sempre vabbè però comunque questo è consigliato anche per questo ho comunque il codice affiliato non è che ve lo consiglio però è davvero un prodotto che che uso da matti da matti ok e questo è anche proprio il suo pennellino abbinato diciamo così non so se si vede qualcosa allora ma non so perché prenda solo di qua non di qua non lo so speriamo non so per i lati mi sembra che prenda solo di qua il microfono sobracciglia ok 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 lo serve questo prodottino di parma beauty in realtà sto provando un altro prodotto per farlo vedere il presento su instagram ciao un rossettino per un momento mi metto pure che vedrà tante ma adatto da mettere sotto il rossetto perchè non è lucido allora quello devo applicare anche a te aspetta ok perfetto perfetto ok è un po' freddo quindi non so quanto ci starà bene però vediamo questo è l'ever il 203 ok 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 Il nostro corso gratuito è il nostro corso gratuito. ma sono una persona di start-up e lo faccio ok anche a te foto delineatore un po' bellissimo questo colore foto delineatore foto delineatore e a riempire e a trinere anche sotto faccio così besti pronti così in mano e a riempire 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 faccio riempire il trucco è fatto tu stai benissimo io secondo me sto abbastanza bene mi pettino un pochino i capelli ho una ricrescita indecente infatti domani vado dalla parrucchiera a farmela a farmela alzare perché se no sembra che abbia già un cappello in testa dalle foto sono inquietanti ok allora questo se lo smesso di specchiero questo è il look completato spero ti piaccia spero che tu ti piacerai con questo look natalizio personalmente per me sta benissimo anche se hai una bellezza naturale e penso proprio penso proprio penso proprio penso proprio penso proprio se aggiunta adorare a passar a passar le luci e augurare 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 una buona 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 notte buona notte soñadora good night sweet dreams buona notte buona notte soñadora buon noii vete a share your head good night good night good night good night good night good night buon noii pasticcini 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 al marzapane bye galisper galisper guon noii guon noii guon noii parah uuuh